Io ho avuto una lettera accorata oggi da alcune associazioni, devo dire la verità è un fenomeno che ci preoccupa da tempo. Abbiamo anche adottato una serie di misure nel passato e nel recente passato per invrenare questo fenomeno con buoni risultati. Anche la presenza di sindaco che ho chiamato ed è stato molto attento a queste problematiche sarà oggetto anche di un ulteriore incontro che io vorrò avere con le associazioni, probabilmente anche a quarto, perché quando ci sono le baby gang, quando ci sono situazioni che destrano preoccupazioni, l'attenzione deve essere massima. Anche questa sera nel corso del Comitato Provinciale per l'Ordona e la sicurezza pubblica sono state individuate e adottate alcune misure di prevenzione per infrenare davvero questo fenomeno deprecabile. L'aspetto è importante perché dove c'è cultura si allontana ogni forma di legalità e allora bisogna avere anche il coraggio e l'attenzione massima nei confronti dei giovani per portarli fuori dalle secche, però nel frattempo bisogna essere severi, rigorosi perché chi sbaglia deve capire che ha sbagliato. Grazie a tutti.